Il rappresentante della Coppia Prima Squadra, Fabrizio Alastra! Il portiere della nostra Prima Squadra, Roberto Gabriele Magno, ha detto un stampo a settore giovanile e calcio femminile. Un ringrazio di Fabrizio, che naturalmente è venuto qua a rappresentare il Palma, una squadra di Palma Calcio, per rappresentare la vicinanza tra le nostre società, il Nocetto e il Provere e il Palma Calcio. Un applauso per la sua presenza e un ringrazio di tutto. Grazie! Grazie!